Ciao ragazzi benvenuti qui è Blast, volevo andare alla Raymond prima di cominciare a registrare così da sistemarmi in un luogo in cui ora come da titolo facciamo un bel po' di amichevoli ma è partita questa roba che effettivamente mi aspettavo infatti per fare il momento extra, quello che accade subito dopo per l'appunto la trama bisogna andare alla Raymond, non andremo avanti ora con la parte extra però ve lo spoilerò già quando finirete la trama dirigetevi alla Raymond e non faccio nient'altro perché altrimenti spoilererei quello che è poi la parte extra che potrebbe essere la prossima volta ma non ne sono sicuro, in ogni caso io volevo andare da Maddy perché mi avete convinto a tal punto di farle amichevoli, tra l'altro si è anche sbloccata Fight ora che abbiamo finito la trama, non l'avevamo ancora mai vista, con la Lega dei Villani da una parte e go la go go dall'altra, lasciamo stare, non è il momento, non so neanche se le farò mai onestamente, Maddy però le faccio perché quando una cosa la inizio io non sopporto lasciarla a metà è più forte di me, perdonatemi questo video sarà lungo perché adesso io non so neanche quanto potenzialmente ho anche un'ora a disposizione ciò che mi interessa è darci una bella botta a questi amichevoli che sono ben 5 cioè si intendono le partite sotto perlomeno andiamo andiamo senza veramente paura, senza troppo impegno sarà un video molto tranquillo, come direste voi, chill l'avrei voluto fare in live, però capite io sto registrando oggi che per me è il 13 aprile quindi se avessi fatto una live oggi, quando per voi deve ancora cominciare la quarta parte della Zoom Eleven Go, quando deve ancora finire la Zoom Eleven 2 sarebbe stato un pochino difficile da spiegare e da farvi capire di conseguenza eccomi qua ho deciso di farle perché comunque la parte extra richiede anche un minimo di allenamento superiore rispetto a quello che abbiamo attualmente infatti la squadra di Bailong barra Tezcat perché di fatto è la stessa cosa, solo che da una parte c'è uno e dall'altra appunto l'altro personaggio in luce c'è Bailong e dall'altra parte Tezcat con la luce salvillante e la relativa squadra di Tezcat sono a livello 60 se non vado errato noi abbiamo a malapena il livello squadra a 48 che comunque è un po' in realtà diverso dalla realtà perché è un livello che conta più giocatori messi in media l'un con l'altro però non abbiamo neanche un giocatore a 60 abbiamo forse Semma al 55-54 per cui trovo ancora un po' presto fare la partita di conseguenza io mi allenerei per questi 40-50 minuti di video io so già che andrà a finire così perché se le voglio fare tutte sono più o meno quello il tempo che andrò a spendere diamo una botta a queste amichevoli scarse di Meddi non potrò terminare tutte le amichevoli presenti da questo personaggio di Meddi appunto perché quelle sopra del ramo superiore richiederanno di essere sbloccate in un modo differente ovvero probabilmente anzi quasi sicuramente dopo il segreto addirittura o comunque con dei pass particolari che ora non posso neanche accedervi perché le squadre in questione sono proprio quelle del segreto o delle parti extra quindi Meddi è un po' strano come personaggio ma ha diciamo nelle sue fasce di amichevoli squadre così scarse ma messe vicino a squadre anche piuttosto forti proprio in contemporanea e così di conseguenza ho deciso ecco per il momento di adeguarmi a questi amichevoli sarà ripeto un video che alla lunga mi stuferò anche di parlare perché cosa devo dire di più ora finché ho argomenti di cui discutere ne parlo cerco di intrattenere perdo il mio tempo ma siate liberi di spegnere il video perché so che qualcuno tiene compagnia anche solamente avendo qualcuno come me forse l'unico su youtube in italia che porta un video anche se io non parlassi troppo ma solo come sfondo dei vostri allenamenti personali che si passa il tempo così molti ragazzini ma anche ragazzi non della mia età comunque sempre più piccoli ma ragazzi anche maggiorenni mi viene a pensare che si divertono che passano il tempo magari le sere a guardare i miei video anche se io non parlassi anche se io non spiccicassi parola ma solamente perché lo sfondo è una zoom eleven guarda intanto che bel trittico voglia che trittico che bel quadro di passaggi che ho realizzato fuori gioco di victor si millimetrico me lo aspettavo ma arion penso avendo fatto anche già due gol non ha sicuramente la possibilità di segnare ulteriormente quindi pensavo di passarla a victor con ciò non voglio ecco anche dar l'idea che io voglia fare tutte le amichevoli in assoluto in realtà ci sono delle amichevoli che voglio fare a priori perché danno del drop interessante che io poi eventualmente se non trovassi alla prima volta qui tramite youtube e tramite video li troverò tramite allenamento personale o tramite sitra al momento però non faccio neanche quell'opzione lì quando andrò su sitra significa che avrò fatto tutto quello che volevo fare su ds ovvero qualche guida l'extra sicuramente e qualche video ancora che ho pensato di dover fare ma le varie amichevoli come questa per esempio che io ho bisogno di dover rifare magari perché richiede non come requisito ma come tesoro di trovare un allenatore particolare posso anche fare un esempio perché ce ne sono tanti di squadre con questo dettaglio non da poco allora vado sempre da Geninforum dove vi è la guida che io seguo sempre per esempio la squadra che sto battendo ci sto provando a battere super età dell'oro droppa per esempio tra i sei oggetti anzi cinque oggetti potenzialmente utili anche l'allenatrice wutz cioè silvia e se io voglio silvia o mi capita oggi adesso in video oppure no oppure me la cercherò per conto mio tramite sitra quindi con la velocità quindi con i salvastati ma penso che questo sia piuttosto evidente per voi intanto ok d'accordo guardavo una cosa importante di lavoro conseguentemente sappiatelo questo vi ho in realtà già avvento molto tempo prima perché non è che posso stare qui a fare video su video davvero ora andiamoci un po' incontro a me va bene fare eventualmente trovare e cercare silvia wutz però se non la trovassi in questa partita esattamente questa super età dell'oro vado avanti appunto vado avanti e poi eventualmente recupererò se ne avrò voglia se ne avessi ancora voglia la partita su sitra velocizzata sicuramente perché ragazzi è imbarazzante questa velocità di gioco vincendo non per forza 5 a 0 ma mi basterebbe vincere 1 a 0 perché poi non mi interessa nulla dell'esperienza e cercando il drop che mi serve tramite i salvastati per esempio la partita dopo riserve delta sto leggendo non ha nulla di interessante tranne le mosse assalto piroclastico ancora navale blocca tiro e la moneta dello spirito però non importa sono tecniche che non mi interessano e di conseguenza lascio stare senza problemi bene ci ho detto buon divertimento con questa parte di una zoom eleven io adesso veramente perderò tempo perché vedete io 5 a 0 l'ho fatto e cosa devo dirvi di più intanto ci sarebbe un messaggio vocale da ascoltare e lo devo ascoltare quindi essendo che è come se fosse un po' una live questa quindi un po' in diretta io muto il mio microfono qualcosa di mai visto avete mai visto uno che fa video su youtube che deve mutare il microfono pur di non andare poi dopo a editare perché non ne ho voglia altrimenti perderei il doppio del tempo e non me lo posso permettere facciamo così mentre faccio tirare il rioma io mi ascolto il vocale in questione quindi muto un secondo il mio audio eccomi bentornati ragazzi cose dell'altro mondo capitano su questo canale ma è doveroso farlo devo anche scrivere dunque a sempre a questa persona quello che ho appena fatto e detto mannaggia a me porca miseria che palle la vita quando si è impegnati in questo modo giovedì 12 prima ora vabbè poi lo scriverò anche dopo in effetti non è fondamentale tanto come procede qua una palla mortale farsi queste parite è veramente un pugno nelle palle ma io mi immagino anche chi sicuramente non io si è fatto a suo tempo o tuttora le amichevoli senza velocità pur di trovare in questo caso Silvia Wutz come allenatrice ci sarà il pazzo che l'ha fatto già che parliamo voglio andare a vedere Faith sempre da questa bellissima guida da Rickix realizzata in compagnia probabilmente in collaborazione anche di altre persone si però figura Rickix come fautore della guida per esempio da Faith che squadre ci siano ah beh a livello 50 70 95 da Faith ragazzi c'è la 0 assoluta al 95 porca puttana che però per essere battuta devo fare prima il segreto devo battere prima la stessa team 0 da Meddi e di una delle partite che ce ne eravamo superiore di questa ragazzina ingenua e batterla insomma sia nell'extra che da Meddi e poi da Fight a 95 pazza totale follia non lo farò mai penso cosa droppa spero nulla di interessante articolo 5 cos'è oddio vabbè non dovrebbe che cazzo è articolo 5 che spunta come oggetto droppabile ha delle mosse interessanti ha una tattica però io non voglio fare la guida anche alle tattiche quindi non ho interesse nel fare eventualmente questa questa serie di amichevoli così difficile così troppo difficile mi informo cosa sia quest'articolo 5 non capisco che tipo di oggetto sia comunque 6 a 0 andiamo dritti e spediti non prenderemo neanche chissà quale exp non prendiamo Silvia e quindi avete capito il discorso come sarà per me in futuro su questa eventuale partita riserve delta allora esiste alfa beta delta e gamma io ho anche visto di riserve che tipo di giocatori sia non lo so cioè giocatori mai visti forse bird bird già l'ho visto è forse top rank di galaxy forse in ogni caso il bello di questa partita è solo arrivare al quinto gol perché poi nel momento in cui il quinto gol è realizzato c'è poco da fare devo solo perdere il mio tempo mi guarderei un po' tutte anche le altre amichevoli che mi possono essere interessanti da battere madonna c'è anche la squadra che si chiama Inazuma Forever che anche qua per arrivare a questa squadra devo prima fare aprire uno scrigno scaricabile tramite download oddio si potrà fare ancora la download adesso in Inazuma Eleven con luce fa un po' vedere download Inazuma Eleven con luce manco pensavo che potesse fare cioè manco pensavo esistesse in realtà e vabbè qui download in sé ma non mi interessa contenuti download vediamo boh vabbè ma no ma ragazzi non andrò mai a battere sta parità a 95 è un po' come se in Inazuma Eleven io dovessi battere una squadra di quel tipo ora per fortuna non c'è nel 2 c'è la Chaos mi pare che è al livello 80 85 l'ho battuta perché anche lì mi sono fatto aiutare da un amico se vi ricordate che mi ha bussato la squadra in termini di livello ma non ci penso minimamente io ad arrivare a tanto a tanto ora finché sono queste amichevoli per quanto scarse comunque in virtù di un obiettivo ovvero di allenarmi in vista dell'extra ha senso ma altrimenti no poi non mi droppano neanche oggetti interessanti o meglio in realtà si per esempio di Zuma Forever dropperebbe il trono di fuoco a doppia direzione cioè la mozza di Victor oppure tattica luce oscura per dire ma non mi interessa ecco preferirei onestamente fare una guida su tutti gli allenatori questo si potrebbe essere un un'idea però ce ne sono tanti eh ragazzi ci sono tanti tanti allenatori sono ora dovrei mettermeli a contare vediamo un po' allora e ve li dico pure così eventualmente nei commenti mi dite no manca uno manca l'altro allora c'è Travis Mark Evans Jude vabbè già li abbiamo questi tre in teoria eh Cometti Zabel Sabel Cinque Dea Sturm Schwarzk Top Byron Love Long John Silver Bigfoot Jefferson Tamm Primo Eden che palle Silvia Woods Grimm Sanford Slate ok è l'ultimo e sono 15 tolti i primi tre che arrivano dalla storia quindi questi magari ci potrebbero poter provare ehm solo che boh non per esempio Hans Slate si può trovare battendo gli illusionisti ora devo andare a vedere effettivamente gli illusionisti dove essi siano che tipo di di squadra siano illusionisti e non c'è porca puttana vabbè devo cercare il segno io ho già capito ecco ah vabbè illusioni sono delle amichevoli di Vladimir assedio del camion imperiale ci potrei anche arrivare a quelle lì eh ma sì quindi sugli allenatori anzi me lo segno pure effettivamente può essere una guida da fare mentre resterebbe ripeto allenatori training point temi e foto tutto il resto non che venga dopo perché inutile assolutamente no ma viene dopo perché non lo voglia io direi che ho fatto già cioè eventualmente con questi sacrifici farei già abbastanza anche perché per rilasciare un salvataggio dignitoso alla fine il mio scopo è quello non solo giocare per avere io il salvataggio ben imbastito ma giocare anche per lasciarvi un salvataggio dignitoso ripeto che possa essere utile a chiunque cerchi un salvataggio di una zoom 11 go ma come ha fatto a prendere il palone che la palla stava andando via ovviamente mentre parlo tra l'altro il tempo passa nel gioco e non è che siamo messi benissimo ora non devo avere paura perché guarda basta fare così tac fine e c'è un gol però insomma stiamo attenti magari mi devo segnare questa cosa qua intanto perdonatemi giovedì 12 maggio che per voi dovrebbe essere passato questo giorno ma per me manca ancora un mese poi lunedì 16 anche questo giorno dovrebbe essere per voi passato poi giovedì 19 prima ora è il lavoro mentre si gioca incredibile e poi il lunedì 23 maggio non penso che ad oggi voi siete a questa data ok ok bene altri messaggi guarda che mi arrivano va bene ok 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 sì sì scusatemi io vi ho detto già se volete chiudere il video fatelo io parlerò un po' a tratti di qui fino a tutto la durata del video non necessariamente legato al garage dici visto il sottotitolo ok allora un giro di vento se ci fosse un tasto pausa qui dalla registrazione ma non c'è purtroppo perché vi è avvia la diretta termina la registrazione e avvia la fotocamera virtuale ma non c'è pausa ci fosse una pausa ma ovviamente sarebbe difficile anche da ipotizzare un video che va in pausa allora lo farei volentieri così no assolutamente no Michael Rioma Michael cazzarola Michael non ha fatto gol sì uno in realtà sì ma ne può permettere altri due in realtà quindi no problem io non voglio utilizzare l'altra mosca non so per quale motivo la potrei anche utilizzare ma non mi interessa 4 a 0 mi sto molto distraendo molto distraendo Arion Michael Arion sto cazzo non ci è arrivato in tempo e perché comunque immaginatevi anche onestamente di giocare a quest'amichevoli e qui non penso che voi vi mettete a parlare perché di cosa parlereste del nulla del vuoto cosmico quindi mi potreste capire onestamente anche se forse fare dell'altro sarebbe evitabile ma devo fare anche dell'altro purtroppo no non mi fare il replay e mannaggia me lo son perso il timing dai gioca via tanto 50 l'abbiamo fatto anche ora ok basta adesso non vi devo più parlare cosa devo dire la verità è inutile ma la faccio solo per quel motivo che già vi ho detto non serve che io vi dica ulteriormente dai Rioma faccio a fare un altro gol no questo proprio non è un gol però Victor vuoi mica fare un gol ancora e facciamotelo fare tanto non è un problema per me puoi farne quanti ne vuoi su ah indebolisce il tiro ci prova perlomeno ma dubito ci riesca ora arrivo ragazzi so che sono in video so che sono tutto in diretta allora io di questi giocatori non ne conosco mezzo tranne Bird ripeto ma non mi sta dicendo proprio nulla il vuoto il vuoto ma realizzo questa piccola maratona come da titolo amichevoli così qualcuno penso faccia piacere e anche se fa piacere a 20 persone io il video lo realizzo pure in questo modo come vedete io non ho bisogno di stoppare il video di mettere in pausa certo fosse un video diciamo volutamente serio ho realizzato in maniera più particolare l'editing fondamentale anche per rendere più chiaro il video stesso per sottolineare le parti più importanti per correggerne qualcuna se è da modificare eccetera però io so e me lo posso anche permettere a quanto pare che quindi qualcuno segue i miei video esclusivamente come sfondo indipendentemente da quello che io dica o da quello che io faccia addirittura poi fino a zoom 11 sicuramente meglio ecco pure in questo caso io nelle riserve delta ora vado a vedere cosa potevamo droppare ma forse ve l'avevo già detto ho trovato solo lo stemma è una cosa imbarazzante onestamente io avrei perso tempo per un cazzo di stemma pure brutto quindi perché io mi devo fare il sangue marcio per questo cioè potevo trovare la moglie dallo spirito che magari mi poteva anche servire anzi non ho manco una ancora il bloccatiro che è una mossa non male per me di porta l'ancora navale che ho dei ricordi di portieri che mi hanno parato dei tiri che io non mi aspettavo durante la storia oppure il salto piroclastico che mi pare sia una mossa offensiva di fuoco se non vado errato comunque non male e invece cosa mi dà lo stemma tra l'altro mi sto confondendo con le maglie perché gli avversari si chiamano Raymond Hex ma che cazzo vuol dire perché c'è Adep perché c'è Eugen ci sono tutti oddio potevano uscire maglie differenti cavolo ecco quindi questa è una partita che mi può dare dei problemi perché i giocatori sono bene o male gli stessi sia miei che loro che diamine allora qua è mio però poi vabbè ci vuol poco a capire chi è l'attaccante e chi è il difensore se poi magari evitassi questi erroracci grossolani sicuramente ne sarei anche felice Luke Victor Arion Victor no donna di poco è tutto vapore ho tutto vapore l'avversario Subaru riesce a farlo io non riesco quasi mai o meglio quando lo faccio faccio addirittura fallo in memoria di quel fallo e avete capito quale mi riferisco mamma mia se ci penso sempre sul gol ovviamente no vorrei farti dare scusami Victor per questo primo tiro così da cominciare a indebolire un po' l'avversario comunque cavolo Victor ha 174 punti tecnica ragazzi oh mica pane panelle che sono buonissime è una rietta tipica siciliana però insomma mica è una roba che dici lo puoi le puoi farle le puoi mangiare no insomma 180 pt oh è tanta roba è tantissima roba ci ho detto 1 a 0 poi comunque proprio in Victor un giocatore già molto forte di suo anche senza tutti questi pt madonna Huggs che riesce a farmi il tubo in suprema ma a che livello sono gli avversari non dovrebbero essere così tanto forti tanto da non riuscire a fare un contrasto vabbè qua lo perdo posso anche evitare di vederlo perché lui c'ha lo spirito guerriero ma sono a livello 30 loro ma com'è possibile che Huggs mi abbia fatto la mossa e me la rifà vabbè ci può stare se non dico non mangio niente ma prima Ario ha provato in qualche modo a evitarla eh vabbè qui devo sperare con Adè non capisco quel Lungs cosa abbia avuto ecco per esempio pure in questa amichevole questa amichevole non c'è nulla che mi interessa ora vi dirò aspettate non voglio fare il fail di dimenticare di fare il quinto gol insomma di avere poi il tempo non a disposizione insomma scarpini Raymond guanti Raymond pioggia di carte che dovrebbe essere una mossa e velocità più più cioè ma che cazzo ma capite che io mi devo perdere tempo di fronte a questi obiettivi no però voglio arrivare a vincere tutte le partite di questo me lo sono messo in testa ormai l'ho promesso di Mehdi del ramo inferiore perché il ramo superiore ragazzi sono troppo forti e non c'è neanche un allenatore quindi non mi serve c'è sì un pass c'è il pass fulmine in una sfida ma ragazzi è tosta sono squadre al 60 75 85 dove l'ultima sono i demoni che chiedono il pass caos addirittura no danno il pass caos scherzavo poi uno schema di partita vabbè insomma non arriverò mai a tale livello l'obiettivo è quello di mi ripeto so di essere ripetitivo ma è giusto sottolinearlo con l'evidenziatore quindi ripetita Juvent io cerco di portare un salvataggio per me in primis utile qualora un domani avessi la voglia di fare delle amichevoli eccetera in live e in secundis ma non per importanza a voi che sia utile ok per voi perché trovare comunque un bel salvataggio imbastito con una squadra mettiamo più o meno al 70 quando sarà ebbè più o meno secondo me arriveremo a quel livello circa 60-70 non di più con l'extra fatto la trama finita segreto può essere una grande soddisfazione per me se dovessi riceverlo quindi presumo anche per tutti voi 2-0 e purtroppo questa Raymond Hex ho sbagliato pure poco fa pensando che Gabby fosse il mio invece era l'avversario e mi ha messo un po' di difficoltà per la divisa e ci può stare un minimo di difficoltà anche se la squadra è scarsa però non vorrei perdere di vista il focus della partita ovvero quella di doverla vincere ecco passo dietro a Ryoma perché so che ha difesa acrobatica e passo su il loro One Lee anche io ho questo giocatore e quasi quasi vado a segnare con Ryoma e Spirito Guerriero oggi mi va così perlomeno in in questo tiro tra l'altro Musashi dovrebbe essere uno Spirito Guerriero sulla carta poi non so non mi sono informato ma sulla carta più forte anche dell'Ancelot del Maestro e del Pegasolalato perché ha 100 di potenza compare già così e poi quando si evolve Musashi è ancora forte e tra l'altro la mossa stoccata dai Samurai chiede bene 85 PSG quindi secondo me il fatto che ne chiede così tanti è un sintomo è un indicatore di mossa forte poi magari sto sbagliando sto facendo un fail però in teoria dovrebbe essere così proporzionale l'uso degli PSG rispetto ha la forza in sé dunque 3 a 0 attenzione però adesso mi devo un pochino impegnare perché il tempo comincia ad essere un pochino tiranno e non vorrei mai ecco sapete bene cosa Victor direi che forse sarebbe il tuo momento anche di evocare lo spirito perché non ho voglia di rischiare di perdere il pallone in un passaggio grande muraglia loro provano a murarmi e mannaggia però non penso che conarino mamma mia però adesso il tempo comincia ad essere veramente tiranno io non la rifaccio la partita se non vinco 5 a 0 sia chiaro anche se sarebbe auspicabile ottimo fallo questo che mi va bene a disposizione entra Nogo non so chi sia ecco magari Victor mi serve però sul pallone dopo da prenderlo quindi cerchiamo di passarla così e mi auguro che io contro Subaru passi senza problemi ok devo riuscire a fare gol adesso a questa occasione altrimenti rischierei di non farcela dopo per motivi di tempo rimasto quindi questo angelo perduto è andato lui prova a comprare la tardente ma non c'è manco bisogno di secondo me pensare a ciò 4 a 0 aspetta un attimo ora mi devo però ancora concentrare perché non è che la partita è terminata così deve andare oltre temibile Orca passa mi sono distratto davvero tanto in questa partita forse per assurdo più parlo più mi distraggo adè ci sei Victor? si che c'è la presa benissimo sta palla speriamo non faccia grande muraglia altrimenti potrei rischiare di no cazzo carica di elefante addirittura inaspettata questa mossa onestamente ma c'è Rioma qua dai no eh non ci si può credere che Rioma non l'abbia presa qui eh devo passare qua e non posso sgarrare non è fuori gioco vero? mamma mia meno male ok mi viene bene perché Sam mi pare non abbia più tecniche speciali di parata spero se non faccio questo gol non faccio 5 a 0 ragazzi attenzione mai dare per scontato e vabbè non ci ho proprio pensato mi perdonerete spero non pensandoci questa è la ah è questo qui no tra l'altro dicevo non pensandoci questa è la situazione che io ho fatto due gol nel giro degli ultimi dieci minuti e tra l'altro anche perdendo dei contrasti come quello prima con Doug che poi ha fatto fallo e bene oppure con Wall-E inaspettati bene meno male 5 a 0 tra l'altro sottofondo c'era anche la melodia legata a Riccardo forse non l'avete sentita ma c'era ok abbiamo perso contro i nostri nemesi anche qua solo lo stemma ma io guarda non ho parole non ho davvero parole stemma al 57 notato aspetta prima salvo un attimo perché va bene essere bravi e buoni ma se salvassimo non sarebbe una cosa negativa il livello squadra è al 48 ma in realtà perché abbiamo tipo ciambarra magari ripeto in panca selezione CI o CL non so bene cosa si intenda secondo me è una I perché sapete la I maiuscola e la L maiuscola molto spesso no CI cammino imperiale ora mi è venuto subito in mente ragazzi che giocatori c'è Yali Remington Jones Infinity Kirk Princeton e beh tanta roba tantissima roba a maggior ragione bisogna cercare di fare magari già il 5 a 0 cosa che io auspico sempre in realtà ogni partita ma a maggior ragione è questa perché mi sembra un pochino più tosta a vederli così i giocatori mamma mia che azioni però ogni tanto mi sorprendo di me mi sorprendo di me stesso con questo serpentello a sonagli di Michael Balzac Princeton ci prova a dubito ci riesca non è detto eh eh no non ce la fa bene ok primo gol è andato senza davvero problematiche di sorta vediamo se riusciamo a fare velocemente anche il secondo per il momento non mi stanno troppi problemi ma stiamo giocando bene noi non abbiamo perso neanche un pallone e l'avversario non ha fatto neanche una mossa ecco qua potrebbe essere la prima volta hai visto? me la sono tirata subito me la sono subito tirata ok non c'è problema qua c'è Luke che ovviamente la palla non la prende qua c'è De che la palla mi auguro la prenda Adè Arion Michael Victor Robeta bestiale 2 a 0 2 a 0 piuttosto easy sì dai fin troppo easy in realtà loro provano con oltre il cielo a rivaltare un po' la situa ma non penso ne abbiano le qualità tecniche visto il livello anche se noi in contrasto siamo davvero scarsi addirittura Riuma è un personaggio che di cui ho l'incertezza talvolta anzi in realtà spesso che riesca a prendere il pallone tra i piedi cioè molto spesso fa peccato per intenderci non peccato letterale letterale ma peccato nel fumettino no che non prende la palla Turbine su primo avversario eh sì pensavo il mio per un attimo perché ce l'ha anche Arion però in fase difensiva effettivamente non offensiva per un attimo allora loro attivano lo spirito di Giale che è il Drake che è un problema in più per la difesa e quindi per il nostro attacco bravo Luke a volte riesce a volte no non ho mai capito da cosa derivi questo parametro boh dove cappio è Victor però non posso usare la tempo con Michael eh minchia mamma mia Riuma inutile Riuma è forte per qualcosa non per tutto non è un giocatore completo assolutamente come dicevano tanto oh questo è buono però peccato che c'è Giale con lo spirito guerriero che ci frega senza manco doverci pensare due volte comunque questo penso sia la prima e ultima volta di questa maratona di amichevoli perché mi rendo conto pure io che poi mi stanco facilmente ma era la mia promessa volevo fare tutte le amichevoli di questo ramo cosicché ecco in virtù come sempre l'ho già detto di tentare con meno difficoltà la partita extra contro la la luce sfavillante che è la mossa di oh ma arbitro fischio no che è la squadra non mossa squadra di by long nell'extra e tra l'altro sentendo anche un contatto telegram c'è anche un'altra squadra extra da battere quella di sol a caso ma dopo la fine della storia in qualunque momento prima del segreto dopo non importa se hai luce bisogna andare nel campo del deserto e ce so che ti vuole sfidare se invece hai ombra puoi andare se vuoi al campo iceberg quello di ghiaccio insomma e sfidare Njord ma casissimo allora adesso io attiverei Rioma spirito guerriero perché cominciamo a a tremare un po' con il tempo sapete io quando vedo il secondo tempo ho iniziato e siamo ancora sul 2 a 0 mi dà alquanto fastidio in velocità siamo scarsissimi ma questo in ogni gioco in Azumeleve non so mai perché l'avversario sia così veloce rispetto a me vabbè noi abbiamo lo spirito guerriero raga cosa da non c'è partita ma proprio no quasi stanco 3 a 0 scivolata potevo fare la mossa vabbè non è un problema gravissimo la riprendiamo facile spero con Adè Adè è una grande rivelazione ve l'ho già detto ma lo voglio ripetere perché magari è un po' sottovalutato ma per le mosse che ha per il ruolo che possiede che è un centrale sapete che secondo me il ruolo o meglio la parte del campo più difficile da trovare giocatori in ogni gioco in Azumeleve per me è il centrocampista è il centrocampo trovare centrocampisti non è mai facile mai mai tante volte uno deve inventarsi reinventare la squadra se ci fossero i mix i max trovare le giuste combinazioni o eventuali totem oppure nei vecchi in Azumeleven trovare dei centrali forti non ce ne sono tanti perché in Azumeleven molto spesso punta sugli attaccanti attaccanti del calibro mi vengo a pensare per me all'attacco più forte che ha avuto in Azumeleven ce l'ha avuto nel 3 secondo me perché aveva Xavier Axel Austin Kevin e Sean potenzialmente anche Jordan e Jude ragazzi qualcosa di impressionante ben 7 giocatori con mosse di tiro per intenderci quello è stato un attacco per me una ma tanti e poi c'è anche Caleb Caleb impari una tecnica tira da Cialab o ad un amicidiale o un pingouin imperatore poi lui è forte poi centrocampo chiaro però c'è anche lui io parlo solo di giocatori attaccanti durante la trama poi ovvio su Galaxy puoi creare la fara che vuoi però durante la trama per me il 3 in Azumeleven 3 ha avuto e tuttora per me ha il record di attaccanti durante la trama tanto qui ragazzi ho perso tanto tempo che ovviamente come prima non ho più quasi tempo di segnare il quinto gol o riesco a prendere la palla adesso immediatamente con Victor e forse ce la faccio e vado in port a fare falli perché bisogna contare pure queste cose qua qua c'è Iale piuttosto rompipalle ma non ha più spirito guerriero quindi lo cassiamo molto facilmente ok ok ora segno perché segno però insomma ogni volta c'è questo stimolo finale che devo avere per forza altrimenti non sarei io 5 5 poker no che poker cinquina poker solitamente quando si fa un 4 gol in questa partita poi si dice uno cala al poker quando lo stesso giocatore fa 4 gol non 4 gol casuali ma tipo Michael 4 gol vabbè l'arbitro non vuol fischiare eccolo sempre più in ritardo bene 5 5 a 0 almeno una mossa interessante meteora dirompente la mossa di xavier no tanto che jp arriva al 50 sem al 58 è lui il mio riferimento io penso che con questa amichevole ancora che manca giusto ne manca uno che sono i rivoluzionari potrà a parte che c'è ancora questo scrigno scusate che lo apriamo già scritto guerriero corvo io penso che con questa amichevole più o meno ci attestiamo attorno a livello squadra 50 secondo me anche perché guardate 1.0 43 e lo abbiamo da inizio storia è lentissimo è lentissimo ecco abbiamo una bella musichetta però bene non ho visto manco la quadra c'è Njord c'è Sled c'è Iguilu c'è Doug ah probabilmente sono la resistenza quella che vi era durante la trama forse dovrebbe essere quello l'impianto di giocatori ma è qualcosa di passare a Victor mi fai perdere questo time volutamente l'hanno fatta apposta così che io non riesco a passare a Victor e sta a vedere e non ce l'ho fatta di poco mi ostino di fare questa mossa perché la vorrei allenare al massimo ovviamente fino a che gioco quindi tutte le possibilità che ho le utilizzo no non ho fatto gol per quale motivo scusa beh che abbiamo no cazzo con Victor oh ma che è successo oh si è attivato lo spirito del portiere non ci ha fatto caso distrarsi vedete addirittura vabbè ti sei ripreso va Luke lasciamo stare chiudiamo un occhio altro spirito guerriero anche di Bailorel Michael ce la fai? fuori gioco ma non capisco davvero non mi è chiaro è la prima volta a forfeiture gameplay che tra l'altro con una squadra di livello più scarso io non abbia segnato con Victor si che di là abbiamo il grande Alessandro però oh non è che parliamo di Michael quello diario parliamo di Victor Blade voglio rivedere se prima ha avuto fortuna oppure è bravura la sua porca puzzetta ma poi guardate che rinvio ma cos'è ma che blocco è madonna mia partitona questa ragazzi arrivati che è arrivato fino ad ora si godrà una bella partita per quello dovrò impegnarmi hai visto rimanere fino alla fine con Blaster c'è sempre la sorpresa adè Ario non è in fuorigioco a questo punto devo puntare su ISG cioè io mi chiedo ma se Alessandro attivasse il suo spirito guerriero non riuscirei a segnare boh eppure durante la trama ci sono riuscito con Victor boh vabbè mi auguro l'ora di riuscirci perché o due volte di fila ha avuto fortuna che potrebbe accadere ma sarebbe una casualità secondo me piuttosto così troppo fortuita oppure appunto si va così ecco vabbè 1-0 al ventiduesimo ci devo riprovare a fare un altro gol se riuscissi sempre magari con con Victor stesso contro gli spiriti ragazzi non si passa quasi mai è difficile cioè quasi impossibile ma Adé ce la fa non riesce Arion ma Adé si Adé è un grande cavolo io veramente ho già sapevo io adoravo già Adé ed è una cosa che ho detto a inizio gameplay ragazzi Adé top player ma ha maggior ragione vederlo in Go perché poi in Cronostones mi pare non ci sia ora sto pensando ma no si che c'è in Cronostones che dico c'è c'è però per me ha avuto diciamo l'evoluzione da ragazzino da pivello da neofita del calcio a esperto a un ottimo giocatore proprio nel Go dove lui ha esordito no e io mi sorprendo mi stupisco di Adé che beh ci ho sempre creduto infatti anche in Galaxy pure in CS io ho fatto dei 7 su Adé che beh perché mi piace ora non mi aspetto che Michael prenda il pallone però lui ce la fa Adé riesce ovunque anche elogiandolo non si pompa la testa non se la monta lui ora potevo evitare perché che cazzo ho sprecato un potenziale contrasto per il futuro perché tanto ormai la parita è finita il primo tempo vabbè e siamo sulla cosa dei 50 minuti che è quello che pronosticavo più o meno un'ora fa è incredibile Arion la scarsezza la poca agilità che ha veramente è pazzesca per fortuna ci arriva un fallo nei nostri confronti entra Bojum esce Alessandro Grande questa è la notizia ma perché Victor che dovrebbe essere più avanti è qua non capisco Victor Luke Michael sei in fuorigioco è inutile che te ne stai lì però Victor se puoi stai pure a guardare vabbè adesso però mi viene comodo perché la palla la prendo ok io tiro con Arion ora questo Bojum sarà un Alessandro Grande 2 la vendetta per la forza perlomeno oppure un ripiego in panchina messo solamente perché Alessandro appunto era senza più PT sono sono stupito davvero sono molto stupito da questa squadra io e ne ho state le palle Michael vuoi che non riesci a segnare Coso non riesci a segnare Victor devi segnare te segniamo un po' con Arion che con il Super Pegasus sicuramente segnerà però insomma per un attimo è stato fuori gioco non so come mi è fatto a non esserlo comunque bene pugno di Pegaso cioè io non capisco boh vabbè allora in tutto ciò dove cacchio è Riccardo? è rimasto fuori ora mi è venuto in mente dicevo ma perché c'è Luke dentro? perché c'è Michael e non c'è Riccardo? ci sono loro due e non c'è neanche Riccardo eh cavolo mettiamolo subito dentro perché è rimasto fuori da quando ancora non poteva giocare ma ora si è ripreso che cavolo ehm madonna poi Luke non ha imparato ancora niente quindi teniamoci sì Michael dentro oh ma miseriaccia ecco perché io dovevo segnare dicevo non ci pensavo ma avevo nella stessa fascia Michael e Luke giocatori sì buoni ma mancava qualcosa ecco chi manca Riccardo Di Rigo eh giocatore fondamentale qui l'avversario spreca una grande possibilità di tiro no invece la conquista oddio mio non passare a Langford perché è la mia fine oddio ma c'è JP in porta non c'è Sam vabbè ce la dovrei fare dai faccio la tecnica non commentiamo va che rinvi del merda che fate i miei portieri eh immaginavo ma Michael non va bene Subaru non ne parliamo quella fascia lì è distruttiva in senso negativo non riusciamo a fare il 5 a 0 incredibile ragazzi non l'avrei mai detto ma abbiamo perso la metà del tempo da non riuscire a fare il 5 a 0 l'unico che si salva è sempre Dekebe sempre lui lui la prende sempre il pallone finché ha la tecnica a disposizione la prende no ha fatto peccato non doveva farlo eh no facendo peccato ho perso la possibilità che per me avevo di segnare dovevo farlo adesso ma anche Rical ha fatto peccato ma dai una presa in giro una presa in giro bella e buona tra l'altro vedete quando tutto va contro purtroppo non bisogna manco arrabbiarsi io sono calmo vedete distendo le rughe perché fa anche male comunque arrabbiarsi grado A questa partita rimarrà A non ho interesse e voglia di ripeterla perché la mia squadra è scarsa è inutile come vogliamo andare contro la team 0 andare contro la squadra di di Bailong come possiamo ma dove dove ci permettiamo con una squadra che ha 20 livelli in meno ragazzi 20 livelli in meno basta concludiamo purtroppo non in bellezza ma in disagio in degrado mi dispiace perché è rimasto fino alla fine e ha dovuto assistere a uno spettacolo così indecoroso peccato anche per i punti esperienza che potevo prendere amen me ne farò una ragione apriamo quest'altro scrigno trappola del fuorigioco e boom bene questa era la parte numero 20 28 ora le prossime le dedicheremo all'extra sempre che ci riusciamo perché quanto pare insomma le difficoltà sono evidenti e i limiti pure però dobbiamo provarci io vedere Wallia 43 non ci posso credere non capisco il motivo ci sono ben 15 livelli di differenza fra Sam e Wallia che hanno giocato le stesse partite all'inizio alla fine che dire vi ringrazio vi saluto purtroppo non arriviamo a livello scolo ai 50 che avrei voluto avere ma amen non importa va bene così arriviamo praticamente alle 18 ore di gioco alla prossima mi dispiace per questo finale ma così è andato ciao ciao